Lo fa sicuramente bene Vi ho andato con olio Dove? Con olio là fuori Lo stesso lavoro che sto facendo lui Adesso deve girare il tubo Spostarsi Se alla fine Quel pezzo che deve scaldare lì Così diventa un po' anche grosso Però eventualmente Si potrebbe anche pensare Di pensare a un puntale veramente Così Con un colpo solo Senza muovere il tubo E forse rimane più compatto No Non lo so Però ci sta Così Cioè No 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 Grazie.